da qui partono praticamente il gogardo che figata quello gli spiega come bisogna fare e gli dice pure dove si devono mettere praticamente la corsa gli scemi in costume in poche parole e la guida istruisce i vari cozzonacci gli dice che deve fare e quelli li seguono praticamente gli fanno il selfie pure e che bella pagliacciata però a quanto pare va di moda a toglio sta fregnaccia e così se ne vanno in giro per la città con la guida davanti la freccia eccetera eccetera è figo anche se da quello che ho capito non inquinano poco questi questi mezzucori ognuno c'è il suo costume da buffone eccoli qua e vanno per toglio praticamente li fa da guida in tutto quello cioè vi rendete conto che storia va molto di moda qui sta cosa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti